Devo ringraziare tutti, tanta gente ha partecipato a questa cosa, i ragazzi sono stati veramente bravi, quello che avevo detto che cerca di essere una cosa esemplare, senza litigi, senza cosa, è stata rispettata la cosa, complimenti per come si sono esibiti, forse è la vita dei migliori, forse, non ho mancato nessuna sigla, forse sempre presenti, sono bravi veramente, sicuramente giocano in qualche squadra, sono bravi, mi complimento con loro. Invitiamo qui i bambini a sedita in palta e a paletta, venite, prego. Il pallone è il migliori giocatore di bambini, chi è? Ah, si si può dire, a FEMO. Ora siamo in da Bacchetta. E' un piccolo capitano. Continuati. Bravi, bravi. Poi passiamo a lì mi rassificati. Ma dove vai? Bravi, applausi. Il prego sul play, FC Ginox, prego. Capo canoniere, il premio, Alessandro Mari, ritira il tonnello, va bene? Prego. Io ce l'ho da dire, il torneo Riccardo Badagno. Passiamo al miglior portiere, Roberto Gorsano. Grazie. Vieno per i migliori giocatori in capo questa sera. Grazie. Poi passiamo ai secondi rassificati. Stiamo qui, Vincenzo. No, perdono, per i primi. Ah, per i primi. Passa? No, la seconda. Secondi rassificati, prego. Un applauso, signori. Buon compito. 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 Grazie Allora, miglior giocatore Sono sfortunatissimo E' indovinato, allora, miglior portiere Certo Applausi, applausi Quanti fai le corse di una corse da tutti i spettatori? E' pronta la spaghettata anche per voi Questa è per l'anno prossimo E' il ricordo di chi è giocato la finale Applausi, applausi, applausi Questa è la signora Sandomato che l'altra volta è stata affesa Applausi, applausi, applausi Lei ne capisce Un coro, Raffaele C'è il pinguino Grande pinguino Sono gli spaghetti la pronta? Eh dai, dai Ne fai buttare Certo No, non fai una foto Certo Oh ma c'è l'ordine, guarda, allora c'è l'ordine, ma almeno l'ordine non sarà l'ordine. Il lode è sopra, forza. Disonore e bruno. Adesso tenete su liste in morte. Pio, vince, fai o fai? È stata dura l'arbitrare? È normale, la finale è sempre dura, un po' dura. La stavi perdendo un po', la stavi perdendo un po'. Sì, non mi è sembrata, è soprattutto nei limiti. È un po'... Sempre... Un po' critico. Sì, un po'. Allora com'è andata la partita tua? Visto che eri facile, parto lo staff e te ne sei andato. Aspetta, voglio giustificarmi. Io sono arrivato a dieci minuti dall'inizio del primo tempo. Quindi sono pulito. Mario, non è che mi vorrà, Mario. Inquadra bene. Allora com'è andata la partita? 4-0 al primo tempo, poi abbiamo lasciato in mano Pasqualino e De Rosa. Vediamo perché hanno combinato. 4-0 alla coppia di Piazzino. No chiamiamo, no chiamiamo. Guarda come ci serve. Guarda che Lewandowski e Re. Eh, alex! Ciao, qual'è il ragazzo? Ciao, qual'è il ragazzo? Ah! Ah! No! Ma c'è le tesserezza! Ah ah, è che poi più a me. Ah ah, è buona! con david sul primo posto come portiere sono gli spaghetti ragazzi sono gli spaghetti hanno fatto apposta per voi l'anno prossimo è come una vittoria, aver perso l'ultimo secondo è una vittoria è un scandale vabbè ci veniamo l'anno prossimo continua, continua continua a lamentarsi chi ti è piaciuto di più? vabbè 10 e... non si sapeva già nonostante ce l'avevi nonostante ce l'avevi con me stasera però io lo so tu era un problema per te no alla mail ciao 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 a un attimo no 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 ne resta non mangi закон no! Grazie a tutti.